Vivi un Natale ancora più ricco di sorprese, su Sky Sport, una diretta ogni giorno. Va a schiacciare! Come in un videogioco! Un calz fantastico! In effondo, la magia sotto canestro! Il dritto, cominciamo con i fuochi d'artificio! Il regale li porta direttamente lui in rete! Buone feste da Sky Sport!